Musica E siamo qui di un'altra concorrente di questa sera, Giussi. Ciao Giussi, buonasera. Ciao, buonasera. Giussi, cosa aspetti questa serata? Sei emozionata? Sì, anche se sono abituata ad esibirmi, a recitare, a cantare, sono sempre emozionata, è sempre come fosse la prima volta. Quindi sicuramente l'importante è partecipare, però mi auguro di interpretare al meglio la canzone che devo cantare e di emozionarmi. E cosa proporrai questa sera ai giudici, al pubblico? Interpreterò Malafem, una classica napoletana. Ti cosa fai nella vita? Ma quello che faccio per lavoro lo faccio anche per hobby, quindi recitare e cantare è una cosa che faccio sempre. Ultimamente sto recitando in uno spettacolo itinerante e è la cosa che mi piace fare, quindi mi sento emozionata. E' la prima mia esperienza professionale, quindi carica. Bravissima, quindi stai riuscendo a realizzare i tuoi sogni? Piano piano sì. Fai un caloroso saluto agli amici di Street News. Va bene, ciao Street News, buona serata. Bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie.